Una buona domenica alla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Emessa, alerta gialla, dalla sala operativa regionale della protezione civile per rischio temporali forti in tutta la Toscana dalle 8 alle 22 di oggi, domenica 23 giugno, raccomandata la massima prudenza. Traffico regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla FIPILI. Prudenza per un veicolo fermo in avaria in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano al chilometro 181. Partenza dal Tour de France a Firenze dal 25 giugno, provvedimenti di chiusura al traffico e di vieto di sosta in zona Piazza Santa Croce e Piazzale Michelangelo. Fino al 7 settembre per lavori alla linea ferroviaria tra Ulla, Lunigiana e Castello Nuovo Garfagnana, cancellazione di treni e corse con bus per i treni regionali. I canali di vendita sono aggiornati. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!